Buongiorno, sono Charles. Vengo dalle Bahamas. Vivo su una piccola isola chiamata Barbara Island. Sto imparando italiano. Ho cominciato circa nove mesi fa. Oggi è domenica e sono in Italia, a Roma. E faccio questo video da giorno zero a Santivo. Santivo alla Sapienza. Una chiesa progettata da Borromini. L'architetto famoso dal diciassettissimo secolo, penso. E' un bel giorno a Roma. Il tempo è bellissimo. E' soleggiato e caldo. E sono molto felice a cominciare questa sfida. E la mia terza sfida, fluent in three months, at one, eccetera. E buona giornata. Ciao, ciao!